L'Italia non ha avuto solo la sventura di avere questo enorme bubone del coronavirus, questa tragedia in mane, ma la sventura di avere un presidente del Consiglio incapace, quale è appunto Giuseppe Conte, e insieme a lui una pletora di ministri altrettanto incapaci. Ma qui non si tratta solo di incapacità, si tratta di essere falsi, bugiardi, e si tratta anche della pericolosità che essi stessi comportano per il paese Italia e per i cittadini tarantini in modo particolare alla luce di scelte sciagurate, come per esempio quella di non chiudere Ilva. Pensate un po', mi trovo qui dinanzi allo stabilimento di Taranto, pensate un po', si chiudono varie attività commerciali, i bari, i ristoranti ed è giusto fare ciò, e poi l'Ilva la si tiene aperta, con 8 mila persone dentro, che lavorano uno accanto all'altra. Non sono state attuate le misure necessarie, almeno inizialmente, a prevenire il diffondersi del virus. Quando gli operai si muovono con i pullman, i bus, sono assiepati, sono veramente stretti uno accanto all'altro e quindi chiaramente si determinano le condizioni perché il virus possa crescere. Poi si ha l'ipocrisia di dire, beh, quando tornate a casa, mi raccomando, state attenti ai bambini, non fate uscire gli anziani, mi raccomando, state in casa. L'operaio dell'Ilva può far attuare tutte queste prescrizioni alla propria famiglia, però poi potrebbe essere lui stesso il veicolo del virus. E qui il motivo, la ragione, precisa perché questo mostro va chiuso, va chiuso, soprattutto in tempo di coronavirus. Guardate com'è falso, com'è ipocrite, com'è pericoloso il Premier Conte. Sentite le sue parole, pregne di ipocrisia. Dice, io ci tengo sulla mia coscienza in assoluto la salute degli italiani. Sentiamo questi secondi. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Bene, questo Giuda dice di tenere alla salute degli italiani e poi tiene aperto il mostro. Immaginate un po' se si dovesse minimamente diffondere il virus. Ne basta uno, due. Ci sarebbe una moria come i moscerini, perché stiamo parlando di un'area in cui insistono, in cui sono concentrate migliaia di operai. Questa è la verità, signori cari. E si tiene il mostro aperto. Perché tanto che se ne fotte Conte, che se ne fottono i ministri, che se ne fottono i parlamentari di questa maggioranza che a Taranto si muore, si muore di cancro, si muore all'interno dello stabilimento. E ora si deve morire anche a causa del coronavirus, perché quel Giude Iscariota, quell'assassino del Premier Conte, perché così va definito, ha ritenuto opportuno tenere l'ilva aperta. Sei un assassino, così vai definito, vai definito, senza mezzi termini. Perché tu stai creando le potenzialità, le possibilità, che a Taranto davvero si possa diffondere il virus. Questa è la realtà, che piaccia o no. E scusate la vehemenza, la forza di queste espressioni. Ma tu sei pericoloso per il Premier, sei pericoloso per l'Italia e per i Tarantini. Questo va chiuso, perché si può creare una strage a Taranto. E nessuno fa niente. Invito il Prefetto, che è il rappresentante del governo, a dire la sua, perché alcune forze sindacali, non tutte, hanno già detto la loro. Ma a che gioco stiamo giocando? Ma veramente i Tarantini devono morire? Devono essere condannati ad una morte dannata? Questa è la realtà, signori cari. Risentiamo le parole di Conte. Questo Giuda che dice di volere il bene degli italiani e di tenere alla salute degli italiani. Solo un assassino può tenere l'ilva aperta. sentiamolo, risentiamolo anzi, e poi voi cittadini meditate. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Ecco cosa urla la gente. Chiusura, senza se e senza ma. Chiusura, Presidente! Chiusura, 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 Chiusura!